Attrazione fisica contro innamoramento Come riconosco che la ragazza con la quale mi sto frequentando Prova una semplice attrazione fisica O quello che speriamo un po' tutti Un qualcosa di più Un innamoramento Ecco di solito le caratteristiche per riconoscere chi è solo attratto fisicamente da noi 1. La persona non discute mai dei sentimenti reali E non mette in chiaro le cose pur continuando a frequentarti Chissà perché La persona pensa solo alla parte sotto le lenzuola Non cercando di approfondire la conoscenza e avere un dialogo 3. Non ha voglia di passare momenti insieme Se non quelli dove poi tutto sfocia come già sappiamo Ecco invece alcune caratteristiche e comportamenti che mi fanno capire che la ragazza è innamorata O giù di lì Desidera trascorrere quanto più tempo possibile con il partner Vuole condividere tutto e lo rende partecipe della sua vita e del suo quotidiano È gelosa di questa persona Io sono abbastanza geloso Non diciamo le solite merdate La gelosia rovina i rapporti La giusta gelosia è il motore Quindi è gelosa anche se all'inizio tenderà a nasconderlo Specie se le cose non sono state ancora messe in chiaro 4. Nelle frasi che dice inserisce e crea scenari futuri insieme Potremmo andare a aprile a fare X Quest'estate potremmo andare sai qualche giorno ad Alassio 5. È costantemente attaccata al cellulare e ha sempre voglia di sentirlo Ultima ma non ultima Inizia a modificare piano piano le sue abitudini Per esempio La ragazza abituata ad andare ogni sabato In discoteca E ogni domenica a fare l'aperitivo Cambia di sua spontanea volontà il programma Per andare incontro a questa persona